Il mio figlio è venuto a voi, ma non è non il suo salito. Ovviamente è venuto nelle dnevole ma non comprendono le amiche. Cosa vede la mamma, non è? Ma dovremmo rendere la mia macchina, lo sbaglio sul tornare. È venuto a voi, non è venuto a voi. Poi, non lo sbaglio. È venuto a mescoltare il mio figlio, non lo sbaglio. Tutto, non lo so! Io penso a voi, la mia gente è venuto a venire. Cayce da te. Salute. Sì, che mi chiede a tutti i nostri spettatori. Sì, sì. Ahahahah. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì.